Il campo basso chiude la classifica della serie B. Oggi la formazione molisana è stata battuta a Perugia per 2 a 1. Dopo il gol iniziale di Massi il Perugia raddoppia con Brunetti alla mezz'ora. Il gol della bandiera viene realizzato per il campo basso da Lupo al 14esimo della ripresa e per il Perugia è il primo successo del campionato.